L'emergenza migranti in attesa di decisioni e soprattutto passi concreti dell'Europa, a cominciare dalla revisione del Trattato di Dublino. Il governo italiano, in particolare il Viminale, sta compiendo ogni sforzo davanti ai numeri, da record degli ultimi giorni, soprattutto degli arrivi. Ogni sforzo sul fronte trasferimenti e sul fronte distribuzione. Continuano senza sosta gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste. La situazione più difficile è a Lampedusa, dove stamattina sono arrivate altre 92 persone su due diverse imbarcazioni soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Proprio per alleggerire la struttura di Contrada in Briacola, proseguono i trasferimenti dei migranti attualmente ospitati sull'isola. In queste ore è in corso l'imbarco di 82 persone che saranno trasferite a Pozzallo. In totale oggi dovrebbero essere 1.382 i migranti che lasceranno Lampedusa. I voli militari previsti in giornata sono due, uno diretto verso Bologna, l'altro per Pisa, per un totale di 180 persone. Con il traghetto Galaxy partiranno in 170, collocati tra Abruzzo, Marche e Liguria, mentre 50 minori non accompagnati verranno portati tra Taranto e Brindisi. A varare il maxipiano di trasferimenti è stata la prefettura di Agrigento. Si sta cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di Lampedusa, che ospita 2.000 persone quando la capienza è di meno di 400 posti. Anche perché, nonostante i ricollocamenti, gli arrivi dei barchini sono massicci e continui. In quest'ottica va vista l'apertura delle regioni a guida PD, Puglia, Emilia Romagna, Toscana e Campania, a cui va aggiunta anche la Valle d'Aosta, che erano contrarie allo stato di emergenza sui migranti chiesto dal governo. Ma che ora sono pronte al dialogo, si è rimpatri e ad alleggerire gli hotspot in difficoltà, ma a condizione che i migranti siano portati in piccole strutture, non in grandi centri permanenti, come indicato dal governo. Intanto è stato estradato dall'Austria e consegnato alla Polizia di Frontiera il quinto dei presunti scafisti della strage di Cutro, nella quale hanno perso la vita 92 persone.